Questo breve filmato possiamo vedere descritte in modo molto sintetico alcune fasi del test analitico che viene svolto per la diagnosi sierologica di leptospirosi. La mia collega Carmen sta lavorando sotto K, questo è il primo aspetto importante, cioè in un ambiente confinato e sicuro per lei. Questi invece sono i ceppi di leptospira con cui lavorerà. Sono tubi che contengono un terreno di cultura specifico proprio per le leptospire. Sono otto tubi con tappo rosso, ciascun tubo contiene una sierovariante diversa. Otto sono quelle più frequentemente diffuse nel territorio italiano e che danno infezioni nell'uomo o negli animali. In fondo sulla sinistra ci sono dei sieri animali sul supporto di polistirolo bianco che sono quelli da assaggiare. Qui Carmen sta distribuendo uno dei ceppi di leptospira in una piastra con dei pozzetti ampi. Ripeterà la stessa cosa per tutti i ceppi di leptospira che abbiamo in dotazione. Questo per facilitare le operazioni successive quando dovrà utilizzare una micropipetta multicanale. Ecco, con questa micropipetta lei preleva una precisa quantità di ciascuno di questi ceppi vivi e vitali di leptospira e li mette in dei pozzetti piccoli dove ha precedentemente distribuito i sieri in esame quelli del supporto bianco. Ripeterà la stessa operazione con tutti i ceppi in dotazione e poi metterà questa piastra ad incubare per due ore a 30 gradi. Dopo l'incubazione preleverà ciascun siero che è stato a contatto con la leptospira e lo distribuirà in dei vetrini porta oggetto per osservarla al microscopio. Al microscopio possiamo vedere o un siero negativo come in questo caso, cioè dove non ci sono anticorpi e quindi le leptospira sono rimaste libere, vive e vitali, o un siero positivo come questo. È un siero in cui sono presenti gli anticorpi. Ovviamente non vedremo gli anticorpi ma vedremo l'effetto che la loro presenza determina in quanto hanno la capacità di agglutinare le leptospire, determinando la formazione di agglutinati più o meno tondeggianti in cui è evidente che le leptospire confluiscono. Quindi il primo era un siero negativo, privo di anticorpi, questo un siero positivo. Grazie! 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 Grazie!